Quando le scuole hanno già ricominciato la didattica in presenza, in verità non proprio tutte, e ad un passo dalla riapertura di tutte le scuole in provincia di Arezzo, è lente ad annunciare l'acquisto di altri 438 sanificatori di aria. 240 erano già stati acquistati e installati. Con le determine dirigenziali di fine anno del proprio del 31 di dicembre abbiamo deciso intanto di completare la fornitura dei sanificatori, quindi arriveremo a un numero totale di 638 sanificatori, saranno presenti in tutte le aule di tutti gli istituti provinciali, come richiesto dai dirigenti ma devo dire anche dagli studenti che hanno apprezzato particolarmente questo aiuto perché li permette di stare in una sicurezza maggiore e di non aprire le finestre che in inverno sappiamo crea disagio comprensibilmente. 421.000 le mascherine FFP2 acquistate dall'ente che saranno distribuite negli istituti superiori. Una fornitura che durerà almeno un mese per ogni studente, questo perché sappiamo che i ragazzi delle scuole superiori che utilizzano i mezzi di trasporto sono obbligati a portare le FFP2, ma anche per incentivarli, ad utilizzarli anche se lo desidereranno all'interno delle aule, perché io credo che cercare di aiutare insieme a tutti gli altri dispositivi di sicurezza e le buone abitudini che ormai conosciamo questi ragazzi a poter continuare a frequentare in presenza la scuola sia un aiuto fondamentale. Nell'Arettino ci sono già istituti superiori che sono tornati alla didattica in presenza ma hanno dovuto lasciare a casa intere classi per casi Covid. È il caso dell'Istituto Margaritone di Arezzo. Dunque, su 49 classi dovremmo avere a casa una diecina circa. È chiaro che è abbastanza sorprendente che ci sia una situazione del genere sempre. Comunque, noi dobbiamo fare quello che possiamo fare più che mai con quello che ci troviamo. Per quanto riguarda i nostri giovani, i nostri ragazzi, loro ne soffrono di una situazione del genere perché chiaramente vi sono lezioni, vi sono programmi che si fermano, non si svolgono le lezioni come dovrebbero essere svolte e così vale anche per le verifiche. I problemi ce ne sono, i problemi ce ne sono. Chiaramente c'è anche un po' una situazione di difficoltà, direi, psicologica da parte del personale e da parte degli studenti nel vivere in una situazione che non finisce più. E mentre in queste ore infiamma il dibattito sulla possibilità di tenere ancora le scuole chiuse oppure no, se sia dunque una decisione giusta o sbagliata, intanto il governatore della campagna, De Luca, ha deciso che elementari e medie rimarranno chiuse fino a fine gennaio. Io non partecipo a questa saga infinita delle prese di posizione in un modo o in un altro, anche perché io qui sono un funzionario e svolgo il mio lavoro, dopodiché non posso giudicare esattamente cosa sarà bene e cosa sarà male. Io dico che la situazione è paradossale, insomma non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione quasi da guardia medica, invece che da dirigente scolastico, che ha tutt'altre problematiche di solito, cioè progetti, iniziative, didattica, programmazione scolastica, tutto quello che vuole, ma di dover svolgere un'attività parallela, diciamo così, quindi è abbastanza inconsueto. Di fatto negli istituti che hanno deciso di far tornare la didattica in presenza già dal 7 di gennaio, alcune classi sono rimaste semivuote e fioccano le ore di supplenza per la mancanza di personale.